Una sana follia Raccontaci qualcosa della tua impresa sul Manasu Devo ringraziare prima di tutto Francesco perché all'inizio la montagna doveva essere un'altra e il progetto un'altra poi un giorno mi ha chiamato Francesco e mi fa ma al Manasu è più accattivante e allora gli ho detto sì vabbè però io devo scendere con gli sci sarà anche cattivante ma è anche più difficile e poi vabbè abbiamo trovato una quadra e siamo partiti con il Manasu e niente c'è stata questa avventura che volevamo fare ahimè tra il fango e non dico altro con il trekking, la montagna e il trekking nonostante le problematiche della meteo si è riusciti a portare a termine questa cosa che avevamo in testa io vabbè sono un po' più testarda lui è un uomo quindi un po' meno niente ci siamo divertiti alla fine tutti quanti anche con i polacchi, con gli spagnoli, con gli altri due italiani che erano rimasti con altre persone che ho conosciuto nel campo base la montagna vabbè è mutata tantissimo negli anni come mi hanno raccontato gli scerpa era un po' più semplice negli altri anni quest'anno infatti i primi scerpa sono saliti il 22 a 23 mi sembra a settembre ma non sono riusciti a mettere tutte le fisse quindi era il più impegnativo ancora perché la problematica della tanta neve la problematica del ghiaccio ha avuto problemi anche loro logistici tutto il resto avete letto su facebook, sui social quindi non sto più a farmi tante venate ancora hai accennato alla particolarità di questa impresa quindi la salita a piedi e la discesa con gli sci io faccio una fatica bestiale nel piazzale dell'Usentino a mettermi gli scherponi e come hai fatto ad attrezzarti per la discesa? quanta fatica hai fatto? in quel momento non stavo pensando ad altro veramente non ho trovato quel momento giusto per riuscire a fare tutte queste cose sapete già più o meno il messaggio che volevo lanciare quindi volevo veramente fare questa cosa per tutte le donne brava brava e l'emozione del primo messaggino quando sono arrivato in cima l'ha raccolta a Ivan che tu che l'hai seguita che cosa hai provato? come l'hai vissuta te questa qua? sì è stata un'emozione molto forte abbiamo seguito tutta la spedizione il messaggio l'ho mandato alla 1.55 di notte tramite un telefono satellitare la cosa bella è stata che noi abbiamo un gruppo Whatsapp c'è dentro Sara, Valeria, Giorgio, Alex non voglio dimenticare tutti in quel momento quando lei è mandato il messaggio che era arrivata in cima io l'ho girato subito all'interno del gruppo e alla 1.55 erano tutti svegli e rispondevano quindi vuol dire che tutti erano in tensione per questa cosa è stata veramente un'emozione grande allora sentiamo qualche cosa su questa attrezzatura Fabrizio, che cos'hanno di speciale questi? io non ho niente di speciale però è un progetto di Cristina che è speciale e che rende speciale a questo prodotto vi racconto un piccolo anteprima Cristina è una persona di una timidezza assoluta io quasi tutti i weekend passo su per la funeria dei salati dove lei ha lavorato tutta la stagione a fianco di uno Shrek veramente un orfo che gli dava di gomito dicendo ma guarda che quello là quello che fa gli sci vai a rompiti le balle se no guarda che lei ti mi disse ma sì, ma sì prima o poi, prima o poi fitto un giorno io mi fermo a prendere un ginseng che adesso è diventato un rito e lei mi dice ma sai io avrei in mente di fare una cosa con gli sci tu fai gli sci ti piacerebbe? ah sì, cosa vorresti fare? ma vorrei forse fare il manoslu con gli sci e io ho dato tale imbecille perché non volevo far più dare troppo peso alla cosa no, interessante ma che interessante cosa cioè noi siamo veramente dei piccolissimi e Cristina ci ha portato in alto molto in alto poi chiaramente c'era un progetto dietro che è questo del Pink Lady questo sci rosa e quindi non abbiamo fatto uno sci ma abbiamo fatto lo sci per Cristina per una parte di questa impresa Cristina non era sola c'era anche Francesco Bon che ha fatto tappa un po' più in basso ti chiedo come è andata cosa è successo? salve a tutti sì, la mia impresa si è interrotta a 20 minuti da campo 2 come mi ha ripetuto due volte Cristina sono un po' un ciuccio perché ho preferito poi fare 4 ore e mezza a scendere piuttosto che farne 20 a salire però in quel momento il cervello fortunatamente ha avuto la supremazia un po' su tutto sono qui con voi forse anche per quel motivo lì magari poteva anche andare peggio quello non lo so però col senno del poi è andata bene così mi sono divertito è stata una bellissima esperienza di fronte a me c'era Cristina quindi l'esperienza parla da sola ci siamo divertiti un sacco anche i campiati risate a tre papelle quindi è stata comunque una bellissima esperienza una bellissima avventura e l'anno prossimo cercherò di fare qualcosina un po' più basso per aumentare le esperienze poi successivamente ritenterò il mio solito di arrivare in cima è stato un po' più basso è stato un po' più basso è stato un po' più basso un po' più basso è stato un po' più basso